Ciao ragazzi, bentornati e bentornati qui su BB Cool. Allora, vi ho raccontato nelle scorse settimane che arrivare in doppia cifra in qualsiasi sport è qualcosa di meraviglioso, perché significa che hai fatto centro, che la tua carriera sta veramente esaltando la bellezza del gioco che stai facendo. Pensate ai capi cannonieri, eh? Più di 10 gol. Pensate al basket, se va in doppia cifra, magari doppia doppia, magari tripla doppia, eh? Ci siamo capiti, no? Allora, oggi però noi non parliamo di sport, peccato o per fortuna, secondo dei vostri punti di vista, ma parliamo di carne e soprattutto parliamo di macelleria Santa Lucia. Tanti auguri. Arrivano a 10 anni, dalla nascita del 2013, 25 ottobre e solo per oggi in tutti i punti vendita, meno 10%, ragazzi, andate a farci un salto. Dite che vi mando io, così ho lasciato giusto da pagare la cosa che faccio oggi, eh? Quindi attenzione, mi raccomando. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi ci facciamo una costata bavarese. Della costata bavarese parliamo dopo, perché ve la faccio vedere lì che mi sta guardando con un grasso di coperta che dice ma mangiami cruda. No, ma noi non la mangiamo cruda. Però visto che qualcuno mi ha detto che la bistecca, tutto sommato, è qualcosa che viene fatto spesso a casa, quindi che non c'è bisogno di sviscerare ulteriormente questioni relative alle cotture delle bistecche, io che non sono tanto d'accordo, ho pensato di ripescare due tecniche di cui mi ero avvalso soprattutto in passato. Ve lo dico in tutta onestà. Non so se andranno a cozzare l'una contro l'altra e se ci metteranno in difficoltà, annullandone l'effetto. Io non credo, onestamente non credo. Però lasciatemi qui sotto i commenti, almeno capiamo insieme se ho fatto qualche stupidaggine. Voglio mettere insieme due cose. Il dry brining da una parte e il reverse searing dall'altra. Quindi a qualche ora dall'inizio della cottura della nostra costata bavarese andiamo a mettere la stessa quantità di sale, fior di sale, sale maldo, utilizzate il sale che più preferite, per salare la carne. E' inutile che io adesso vi faccia un discorso da Bressanini perché toglierei soltanto tempo e diventerei noioso. Sicuramente lui lo sa fare meglio di me. Diciamo che si sviluppano reazioni chimiche in grado di esaltare il sapore della carne. Per cui, essendo il sale una sostanza igroscopica, riesce a darci una mano per concentrare tutto il gusto. Con la reverse searing invece, tecnica pazzesca, anziché prima scottare e poi passare sull'osso per andare in diretta, faremo proprio il contrario. Imposteremo il nostro barbecue molto molto basso, 60-70 gradi. Porteremo a 50 gradi la nostra cottura o magari anche un filo meno, 46-47, per far poi la parte di searing, stavolta sì con il barbecue altissimo, per cercarci la reazione di Maillard e quella bella crosticina. Ed è per quello che la fermo prima a 46-47, perché poi prenderò sicuramente qualche grado in più e riusciremo a fare miaur un buon lavoro. Adesso è il momento di parlare di Costata Bavarese. La Costata Bavarese l'ho recuperata nel punto vendita di Seregno della Macelleria Santa Lucia, che vi ricordo ha anche i punti vendita di Terno d'Isola in provincia di Bergamo e di Vimercate, naturalmente sempre provincia di Monza-Brianza, Vimercato-Milano, non lo so. Scrivetemelo nei commenti che io con la geografia faccio abbastanza schifo. Aprirà anche a Carate-Brianza nel 2024. Noi però ci godiamo questi punti vendita e soprattutto ci godiamo questa Costata Bavarese. la nostra Costata Bavarese. Guardate come vi raccontavo il bel grasso di coperta, guardate le infiltrazioni che non sono marcatissime rispetto alla Sashi, per esempio, che abbiamo fatto un paio di settimane fa, sono inferiori, però guardate che meraviglia. Io l'ho tolta dal sottovuoto, qui parliamo di un chilo e mezzo di peso, l'ho tolta dal sottovuoto circa un'ora, un'ora e mezza fa. E adesso, senza cospargere la superficie, l'osso di olio, vado semplicemente a fare questa operazione, a mettere il sale. Utilizzo dei fiocchi di sale e sal di pizza che abbiamo già utilizzato in passato. Non dovete pensare di pucciare completamente tutta la vostra carne dentro 708 kg di sale. Semplicemente dovete cospargere la superficie, esattamente come se faceste questa operazione una volta cotta. Quindi diciamo che più o meno per 400 g di peso va mezzo cucchiaino, no? Noi qui ne abbiamo 1500 g, quindi possiamo tranquillamente pensare a due cucchiaini. Quindi diciamo, un cucchiaino da una parte, un cucchiaino dall'altra. E andiamo via sereni e vediamo poi che cosa succede. Allora, mi prendo il sale delle baleari. Vediamo un po' se riusciamo a non fare una stupidata. Ecco, possiamo anche abbondare un po', eh. E iniziamo a mettere il nostro primo strato. Naturalmente sto andando abbondante, eh. Forse più abbondante di quello che farei con una salatura normale a fine cottura, però considerate anche lo spessore della mia carne. Quattro dita, quindi non è a carpaccio. Quindi da una parte in questo modo e dall'altra parte in quale altro modo? Ebbene, il medesimo ovviamente. Quindi anche qui un po' abbondanti con il nostro sale e andiamo a spargere senza indugio. Così. Io, memore dell'esperienza Rab, un po' di tamponatina e strofinatina la faccio. Niente di più, niente di meno. Noi questa ce la cuciniamo stasera, in reverse, come ci siamo detti. Quindi poi semplicemente andremo ad accendere il barbecue, posizionare il nostro meter per riuscire ad avere una giusta rilevazione della temperatura. Tra l'altro questo è un taglio, visto che puntiamo sul reverse searing, che potrebbe tranquillamente essere fatto anche in casa. Pensate al forno. Se avete un forno che riesce a sparare 60-70 gradi, come temperatura minima andate via tranquilli, perché con una sonda, magari dello stesso forno, oppure sempre con un meter, potete tranquillamente andare a rilevare la temperatura e poi alla fine potete pensare di passarla in padella. Ma certo, sul barbecue naturalmente, nelle ore di reverse searing, se utilizzate un barbecue a carbone, prende anche l'aromatizzazione del carbone stesso. Però, volendo, visto che il tempo intorno a noi non sta esattamente promettendo molto di buono, potete anche immaginare di andare direttamente nel vostro forno. Cosa che noi non faremo stasera, ma che faremo con le prossime cotture di macelleria a Santa Lucia, però, intanto, ci godiamo questa bavarese. Così, così bemo una birretta bavarese, intanto, per sicurezza. Dopo quattro ore di dry braining, la nostra costata bavarese, che vorrebbe essere mangiata dai cani o che i cani vorrebbero mangiare, è diventata così. Abbiamo già messo la sonda del meter e sono contento perché ritroviamo il Broil King Regal Pellet 400. Noi adesso andiamo fino a 85 gradi, mettiamo la nostra bisteccazza, anzi, la mettiamo subito, tanto non le dà fastidio, e la lasciamo andare, dimenticandocene, o meglio di no, o meglio no, perché abbiamo il meter, e poi, quando l'avremo portata a 50 gradi, 46-47, come ci dicevamo prima, alzeremo la temperatura a go go. Un'ora e mezza, tanto ci è servito per arrivare a 48 gradi con la nostra costata bavarese. Adesso vi faccio vedere cosa ho fatto invece con il Regal. Ecco cosa ho fatto con il Regal, l'ho portato a 300 gradi. Vedete qui un'ora e 0,3, non perché sono stupido, è perché l'ho inavvertitamente spento. in realtà è andata via la corrente. Ma non dirò l'amministratore. Ah no, sono un'amministratore. 300 gradi. Adesso andiamo semplicemente a segnare, a trovare la reazione Maillard. La differenza di questo, cioè, o meglio, la caratteristica è che contraddistingue questo prodotto rispetto a qualsiasi altro barbecue a pellet, e che puoi anche grigliare. Cerco di portarvi un po' più vicino. Anzi, per portarvi più vicino faccio così, faccio bremo. Scusate. Eh, che cavolo. Andatemi un secondo, che correggo. Ecco qua. Ovviamente, come qualsiasi barbecue in cui andiamo alti con la temperatura, abbiamo qualche principio di fiamma ed esattamente come qualsiasi altro barbecue, chiudiamo. Mi scuseranno gli amici di Broil King, ma non l'ho ancora pulito. O meglio, l'avevo pulito, poi è cominciato a piovere. Grane classico. Adesso facciamo semplicemente andare per un paio di minuti per lato, in modo tale da avere una bella serie di grill marks. Noi andiamo ad aprire. Naturalmente, si alza un po' di fumo. Giriamo di 90 gradi. Facciamo sparire la fiamma e andiamo avanti. Direi che è arrivato il momento di girare la nostra carne. Guardate che belle grill marks. Mancavano un po' le grill marks di Broil King sul Regal Pellet. Ragazzi, abbiamo finito. Adesso facciamoli posare e tagliamo. Allora, ragazzi, ho litigato con i fili della mia prolunga. Sono ancora, infatti, in una situazione abbastanza complicata. non ve lo nascondo da un punto di vista di gestione della luce. Eppure, ce l'abbiamo fatta per cui andiamo a tagliarci la nostra bella costata. Dunque, rispetto alla cottura che troviamo di solito su una bistecca fatta prima in cottura diretta e poi lasciata sull'osso, vedete l'uniformità data dall'oltre, dagli oltre 90 minuti passati a cuocere in reverse searing. Adesso io finisco di tagliare e ce l'assaggiamo perché sono curioso di sentire la marcatura della fumicatura data dal master blend di Pearl King e dall'altra parte sono curioso di capire se il sale basta oppure se il dry brining l'ho fatto in maniera sbagliata. È possibile, eh? Il pezzettino vado ad assaggiarmi e via. Pronti! Ancora il pallone da basket costante del disordine e il nostro morso di costata bavarese di macelleria Santa Lucia. Cavolo, dentro non ho detto ho fatto il dry brining, state lì. Non salatela assolutamente, eh! Non salatela! Ecco, l'avevano già salata ma non è vero fortunatamente è andata bene. Stupidamente non ho raccontato dentro esattamente che cosa facevo, no? Si scioglie in bocca, si scioglie in bocca, ragazzi, è buonissima, è buonissima. se fosse una persona sarebbe melliflua, esettosa, vellutata, meno invasiva, meno invasiva dalla Sashi, quindi ancora meno invasiva dalla rubia gallega, però un'esperienza pazzesca. Se volete vivere anche voi questa esperienza, avete soltanto una cosa da fare, domani vi buttate sereni nei punti vendita di Macelleria a Santa Lucia meno 10% e godete come me. Mi sono bruciato io però, è andata male stavolta. Vabbè, ragazzi, qui sotto trovate tutti i riferimenti di Macelleria a Santa Lucia, almeno sapete dove andare a pescarli per il 10% e poi qui se volete iscrivervi al canale se non avete ancora fatto vedete voi se farlo meno e qui sotto infine se volete beccarvi un altro video o restare in nostra compagnia sapete che ci fa sempre piacere. Grazie di tutto, un grande abbraccio come sempre alla prossima Corro a magnare!